Musica Ah beh, un guest posing, devo dire, nobile da parte di Brett Wilkin che, come ben saprete, come dico sempre, mi piace davvero molto e penso che sia un po' da fuori di testa se non vi piace Brett Wilkin perché è davvero nobile è davvero bello da vedere, è davvero molto completo guardate che rapporto vita-spalle ma, in generale, è uno dei pochissimi bodybuilder che, secondo me, non ha punti deboli cioè, davvero, è difficile che un bodybuilder non abbia punti deboli nel suo caso, forse il posing è un po' incerto perché ho visto alcuni guest posing, ho visto altre gare che ha fatto e gli manca un po' di sicurezza nel posing però, a parte quello, è davvero fantastico non ha pose deboli, guardate che densità nel petto guardate che braccia anche soprattutto i bicipiti e l'avambraccio guarda che controllo addominale, le gambe davvero molto molto nobile sono curioso di averlo all'Olimpia io spero che non ci sia qualche caffonata politica nel senso, ok, sei un bodybuilder nuovo guardate che schiena che ha sei un bodybuilder nuovo quindi non puoi entrare nella top ten bla 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 perché non hai fatto questo e quest'altro cioè, secondo me questo è un bodybuilder che tranquillamente potrebbe passare davanti a un'unterla brada per dirne uno così ikis, ikis ikis a caso guardate che schiena cioè, è un bodybuilder che ha bisogno forse di un filino di massa però c'è tutto cioè, è davvero bello lo so che l'ho detto molte volte però penso che sia da fuori di testa non darmi ragione ma non perché io abbia ragione ma perché è un bodybuilder fantastico quindi speriamo che faccia bene la prep e che si presenti al meglio al Mr. Olimpia un altro bodybuilder che mi piace molto è il buon Ryan Grimes col suo coach Milos Sarcev sta a continuare a pubblicare aggiornamenti molto molto nobili i suoi punti deboli sono i bicipiti e il fatto che non si definisca bene in genere a meno che non sia uno show minore è sempre molto molto altalenante dovrebbe gareggiare in Italia non ho ancora capito quando perché mi sembra di aver capito che ci siano due gare in Italia però non ho capito bene quali siano queste due gare sicuramente lui gareggerà spero che si qualifichi guardate che avambraccio disumano questa non so se sia la fidanzata o chi cacchio è hanno le scarpe uguali l'ho appena notato e io voglio vederlo anche lui in top 10 all'Olimpia c'è un altro bodybuilder che può fare la top 10 cioè se ci pensate spesso in top 10 arrivano bodybuilder del cazzo perché? perché magari hanno fatto la gavetta tra virgolette questi sono screenshot di un reel hanno fatto la gavetta guardate che tricipiti hanno fatto qualche bella posizione sono avvantaggiati dal blasone però c'è a me sembra folle pensare che un Brett Wilkin che un Regan Grimes magari possano finire dietro a un Ian Valliere cioè per dire un bodybuilder che comunque è continuo nel rendimento è continuo nel vincere gare minori e che si piazza in posizioni buone all'Olimpia guardate che cavolo di tricipite che ha sicuramente gli serviva un po' più di bicipite è andato quasi tutto nel tricipite la genetica delle braccia quindi io credo che gente come Ian Valliere faccia quello che fa per la definizione molto semplicemente perché ha un buon posing però si sta sciogliendo lo abbiamo visto nella sua ultima gara petto andato dorsale sinistro andato certi difetti che ha sempre avuto polpacci tricipiti cioè come cazzo si fa a non far passare davanti a un bodybuilder tipo Ian Valliere e sto dicendo lui non perché voglia accanirmi a confronto di Ian Valliere come cazzo si faccia a far passare davanti a Regan Grimes e Brett Wilkin gente tipo Ian Valliere questo è il mio mio pensiero penso che lo condividiate anche voi perché è un pensiero abbastanza normale penso che lo pensiate tutti però la definizione la continuità nei piazzamenti secondo me conta molto e anche la gavetta quando si deve scegliere molto spesso vincono bodybuilder più definiti ma che stanno sciogliendo rispetto a bodybuilder tipo un Regan Grimes che ha qualche problemino a definirsi ma che è molto più bello quindi fatemi sapere che ne pensate cioè se sono fuori di testa a pensare a queste cose o se le pensate anche voi e chiaramente non per leccarmi il culo perché penso che non ve ne sbattano una minca di leccarmi il culo comunque passando a Andrea Muzzi ha annunziato che gareggerà tra quattro settimane al Flex Weekend che è una Galaxy terrà a Milano figa vedremo un po' se sarà in condizione come sarà messo dopo che ha avuto qualche problemino a livello di prep nel senso che ha posticipato un po' l'off season perché ha avuto non è che cosa sia un virus in base a quello che aveva detto lui sembra che si stia definendo abbastanza bene probabilmente gli ha fatto bene a non gareggiare quanto ha gareggiato l'anno scorso lui è un altro di quei bodybuilder che è tipo un po' Ryan Grimes che stiamo sempre aspettando che faccia il colpo perfetto che arrivi al top questo 6 chest è molto molto mobile mi piace sembra anche come detto che si stia defiendo bene mi piace anche il grandentato che sta avendo un po' quella definizione da palco quindi anche lui secondo me ha fatto bene a gareggiare di meno anzi a non gareggiare a riprendersi a farsi una bella prep un off season anche se un po' mutilata un po' più lunga di quanto magari avrebbe dovuto se avesse dovuto gareggiare molto come l'anno scorso però è un bodybuilder che può far bene secondo me cioè è un bodybuilder che può vincere una gara è un bodybuilder che se lavarsi sui punti deboli che erano un po' il controllo addominale l'anno scorso il posing che a tratti era un po' incerto la definizione può far bene quindi vediamo se quest'anno di stacco diciamo dalle gare perché l'anno scorso ha gareggiato molto 5-6 gare per quello è arrivato l'Olimpia ai punti avendo gareggiato così tanto vediamo se così facendo può togliersi qualche soddisfazione a fare un piazzamento nobile per il resto mi sembra messo bene non mi fa impazzire la schiena e come vedrete qui in questo becchetto al bicep ma non per criticarlo fine a se stesso cioè è una critica oggettiva secondo me ha bisogno di lavoro nella schiena sarà l'inquadratura le ombre bla 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 mi sembra che manchi un po' di dorsali e non ci sia molta densità nella schiena cioè i deltoidi sono molto più grossi del trapezio poi si vede bene la separazione tra i tre le altre parti dei deltoidi però manca un po' di densità nel trapezio manca un po' di dorsali a livello di come dovrebbe allargarsi e anche un po' nella parte bassa della schiena c'è un po' di caos però vedremo un po' cosa combina tra un mesetto buone a Grazie a tutti.